Che cosa hai fatto? Perché c'è tutta la scalinata di sto? Ma dai! Ma sinceramente parlando Ma che cactus è? Ehm, perché c'è tutta la scalinata di sto? Eh, ma... si... Eh, vabbè, mamma mia Ma questo qua è un cactus troppo cresciuto Guardatelo, eh Aspetta Oddio, dai, che cagata che è No, invece è figo l'effetto che fa Sì, è figo Ma io dei fuchi d'artificio Sai che cosa c'è da fare? La prossima volta, capito? Che qualcuno fa il compleanno Basta che gli dite di mettere dei cactus uno sopra l'altro Poi gli piace un blocco accanto e invece esplode tutto Ma aiutate qua a fare qua No, Pepo, non ti aiutiamo No, no, io ero l'assassino Vengo io, dai Allora, io voglio fare una pavimentazione Questo che io non ho fatto un cazzo Ti voglio dare una mano Vai Che bravo Ecco, brava Silvia Bravissima Silvia Ho finito Assolutamente la canzone E mi lasci cadere Va, 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 va Guarda che si completa da solo Che schifo Salve Silvia Lo raccogli quello schifo? Mmm, signor Pepo lo vado a raccogliere Che schifo, levati Lo vado a raccogliere E ore e ore e ore e ore e ore di lavoro, moledizione Guarda qua Guarda qua Lampo Lampo, stai guardando Lampo? Eh Stai guardando Lampo? Stai guardando Lampo? Lord Dobbiamo prendere diamanti Ma non ci perdiamo Attento ai conigli Vabbè, tu è sicuro Le coordinate le so Ma gli occhiali sti conigli Ma gli occhiali sto conigli No, perché lo ammazzi tu? Fallo ammazzare a me che io lo droppo Guarda Eh, lo ammazza lui Lord, fallo ammazzare a me Guarda Visto? Ho troppato il cosciotto cotto Eh? Perché tu hai la spada che sbrucia Che sbrucia Sì, io ho la spada che sbrucia Che sbrucia Che sbrucia C'ho la spada che sbrucia Oddio, dai andiamo 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 Alla rimbaggio Alla rimbaggio Alla rimbaggio Guarda che già li ho persi Senti ai conigli, appena vedete un coniglio uccidetelo Ho paura di conigli Schifoso L'ho ucciso un cantiverissimo Alla Perché i conigli possono diventare conigli assassini E poi sono cattivi E poi ti mangiano E poi cacca Ma che conigli conosci tu? Andiamo un po' in giro Andiamo un po' in giro So Minecraft uno su un tipo un milione di Uno ogni un milione di conigli Spawno un coniglio killer Ogni un milione di conigli spawno un coniglio killer Dai vi ho persi E ti uccide Aspetta 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 Pollo Ok Seriamente non sai sta cosa Che spawno nei conigli assassini? Eh Mamma mia Non me l'aveva ancora detto nessuno Che sono forti Eh ma immagino Quanti video mi è capitato di vedere contro i conigli assassini Perché è raro Sai quant'è un coniglio ogni milione? Un coniglio ogni milione? Ma quelli piccoli non li ammazzati? Sono carini e coccolosi quelli piccoli Uccidete quelli bianchi perché di solito il coniglio assassino è bianco Lo smetti sto conigli Ti faccio vedere il video Io se ti faccio vedere il video Ma guarda lì c'è un coniglio Colormiele Vediamo se muore Sì questo qua non è quello assassino Quell'assassino Io ora l'assassino Sto contento se ti ammazza così ci credi Ma come fa ad ammazzarmi? Oh carbone Carbone Ancora carbone Sì oh c'è il piccone con fortuna Quindi c'è guarda qua porca troia Cioè abbiamo spaccato dieci cose di carbone Solo solo io ne ho 35 Porcavacca Allora no dobbiamo cercare il bioma del deserto Dai andiamo all'arrembaggio Ma poi a casa come ci torniamo in Thai? Sono le coordinate Ah ok Io lord 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 Oh siamo lì il bioma della neve Eh Fiii Carbone Finito il carbone Miniera Finita la miniera Oh guardala che No dai che figata Aspetta Sembrano tanto una costruzione Venite Oh carbone Bevo non comincia appena avete un immateriale fuori De prenderlo tutto fino alla fonte No 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 Eh oh Senti Ma lì c'è una cosa figa aspetta Un coniglio che carino Mamma Così indifeso Oh guarda No dai sta cosa è fichissima Voglio salire nel promontorio Ho dato fuoco Aha Io voglio salire nel promontorio Nooooo Sono nel promontorio io Nooooo E se io ti facessi tipo Ti sei sparta Morto Nooo Nooo Vabbè c'è Te raggio fapposo Eh appunto Solo te perché mi sono buttato allora Eheheheh Prego Lo vedi questo Cosa? E' il coniglio assassino Aaaaaaah Mamma mia non mi faccio niente cadendo È bellissimo Quindi devi avere paura dei conigli con gli occhi rossi Eh mamma mia i conigli degli occhi rossi proprio Manco fosse una carta di Yu-Gi-Oh Sono contento se te becca così muori e ci credi Mamma mia ti prego eh I conigli assassini I conigli I conigli I conigli che ti fanno Imanassassin 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 E poi mi ammazzo Dai ma il bioma del deserto Ma vado morti che abbiamo messo nel server Tutto Tutto Tutti Oh ecco i conigli assassini Ooooooooooooo Non erano quell'assassino Vabbè ma gli occhi rossi eh Si però Ti giuro io adesso andrò in giro a cercare il conigli assassino Imanassassin Devi avere Tanto culo O tanta sfortuna diventa da quello che Lo stiamo tolendo solo conigli Poi te lo faccio spawnare con un comando e te lo faccio vedere Si mi spawna il conigli assassini Ma c'è tanto carbone qui Ah ecco brava brava Alla sarà sicurata qua E infatti bravissima Ecco vedi che lei è brava lord a differenza tua Cioè non si lascia indietro niente Io non voglio trovarli Io non voglio trovarli Non è che devi volere o meno Neanche io voglio trovarlo Però una volta che lo trovi va preso Cioè l'ordine non rompere il calcio Poi sei da assassini Io lo assassini Siete assassini Siete assassini Siete assassini Eh muori Ok perfetto Stanno guardando con degli occhi che sono così pucciosi Guarda quanto carbone Guarda Sono così pucciosi Siete troia una gallina ancora che deve crescere aspetta che ammazzo sto coniglio no aspetta 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 fammi immaginare sto coniglio che aspetta che ho troppo la carne cotta che devo mangiare pure con le frecce cotte con le frecce con lui c'ha le frecce cotte ovviamente sì guarda 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 vedi che troppo già questo era troppo piccolo questo è più grosso che mi vuoi cucinare ma tanto poi le riprendo essendo infuocate le vedi anche meglio lì c'è una freccia pirla ma andiamo 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 di qua arriviamo sicuramente al bioma come abbiamo dormito veloci infatti non hai fatto niente infatti non hai fatto niente lascia la notte lascia la notte eh non l'ho dicciata lascia la notte però se scrivi time ti dici che ore sono magari te scordi no assolutamente è geniale aspetta che faccio un pochettino di pollice la cosa è geniale no perché non tutti c'hanno l'ora sotto a in basso a destra no 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 che c'entra ti dice ti dice l'orario penso aspetta slash time no solo time time the time is 14 a ti a ti dice l'orario proprio del vero della vita reale che cosa non sa cosa ne noti nello senso smettete con l'acqua con l'acqua con l'acqua con la conigli assassini conigli assassini te lo faccio spawnare no ma che fai spawner non esistono la smetti coniglio assassino si conigli assassino nel cervello si ma la smetti di le minchiate e prendi sto coso invece prendiamo mancraft la smetti dai muoviti dai che aspetta prendiamo faccio vedere che esiste esiste io ti coniglio strano la verità che lui va il coniglio se tu il coniglio assassino c'è nel cervello deve trovarlo uno su un milione allora si vede che noi andremo alla ricerca del coniglio assassino uno su un milione uno su un milione ce la fa uno su un milione ce la fa ha una possibilità su un mille no su un milione scusate ho detto non ho paulato ho sbagliato un po di serie l'ho lanciato ok ammetto che contraccolpo in questo caso è utile però stiamo cercando il bioma del deserto così se troviamo i libri per me che per ultra inciantati ci siete andiamo guardate quante mucche cibo gratis ecco visto che qua è inutile contraccolpo cazzo minchia devo inseguirlo devo o villaggio villaggio vabbè aspetta prima ammattiamo tutti i libri ma c'è una strega aspetta ma no povera ma io ho fatto malissimo mi ho fatto malissimo c'è proprio l'ho uccisa nel cervello zampa di coniglio raga ho troppato una zampa di coniglio mi esploso un creeper in faccia sapete quanti cuori mi ha allevato quanto ti è tolto nemmeno uno ma esisteva si esisteva stranamente non esiste più è vero è incredibile dai cerchiamo sto bioma del deserto dai poi io seguo silvio ma voi a me dovete seguire che dobbiamo andare verso il bioma del deserto io c'ho un certo fiuto per il bioma del deserto si si è vero che me lo sento me lo sento siamo quasi al bioma del deserto sono caduto nel buco aiuto a capo sono uscito sento il bioma del deserto sento il bioma del deserto lo sai da niente lo stesso aiutato a profilare di che non hai fiducia dunque siamo nel bioma delle birce siamo non è più che io non lo dico che abbiamo ma siamo che per me fa 3 si siamo in siamo in non lo vedo forest il cipo da un circe forest o ecco io sassi no esiste la volete quanti tolotto blocchi metodiore si muovono su un ufficio sassi allora Aspetta io lo evoco No la smetti di evocar No lo dobbiamo trovare Io fino a quando non lo vedrò Non ci crederò Oh eccolo qua bioma bioma arriva Ve lo dico io fidatevi Lo sento Bioma che in cui siamo adesso siamo nelle pianure E infatti dopo le pianure Ce lo dice anche la legge della pianura Dopo la pianura c'è sempre Non è vero Il deserto ma se tu non le sai queste cose Che fai? Lascia fare Oh ci sono i girasoli Che non sono Girati verso il sole Perché non si girano verso il sole Certo perché Lo sai che si chiamano girasoli perché teoricamente Dovrebbero girarsi verso il sole In minecraft no E lo so in minecraft è stronzo Che ci vuoi fare Il coniazzazzino Ma c'è un occhio sfappato Ah no Ah che no Vabbè no che andiamo Oh raga arriva il bioma del deserto Ve lo dico io Ve lo dico io Esiste il coniazzino Sì sì Eccolo guarda che arriva il bioma Dopo il bioma della pianura E quello della montagna innevata C'è sempre il bioma del deserto Fidati Tu queste cose non le sai Perché non le hai studiate E io ho studiato biomilologia Io ho studiato Ora tu mi devi spiegare Dove cazzo siete? Ora voi mi dovete spiegare perché C'è un albero Smezzato sopra un lago Lo troviamo sto bioma nel deserto E porca troia Andiamo nel bioma della forest Penso che ci sarei arrivato Quella della forest con i funghi giganti Tutti sanno che dopo le montagne Dopo quello della birce Dopo quello dell'aria E dopo bravo Visto che Profit forest C'è quello del deserto Visto che più o meno lo stai Infatti visto che più o meno lo stai apprendendo Che bella vero Guarda guarda Quindi noi stiamo andando verso sud Verso sud Dove siete? Verso sud Verso sud Vai verso sud E lei dirà ma dove cazzo è sud A sud Sei presente? Cioè prendi l'autostrada del sole E vai verso sud Sì prendi l'autostrada del francesco sole E poi attacchi i posti Siamo quasi arrivati Siamo quasi arrivati Dopo la piavura C'è E dopo Sempre dopo Fidati che siamo quasi arrivati Allora Scusate eh Dove cazzo sta il bioma della Eh ragazzi Oh villaggio Villaggio Sì sì Villaggio Villaggio Aggio Aggio Villaggio Gioggio 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 No non è un villaggio È casa Casa Non è un villaggio Siamo ritornati a casa No 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 Se andiamo No 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 Io non ci posso credere mai Se andiamo tornati a casa Io non ci posso credere mai Mamma mia Il senso dell'orientamento di bello Abbiamo girato in tondo Io ce l'avevo la sensazione Di girare in tondo Ma io no Ma che cazzo Io no Cioè io ero convinto Se stessi andando sempre dritto Non potete dire Che non siamo in un bioma del deserto I cactus ci sono Accomi Cavolde Come ho visto Abbiamo tratto i cactus Missione riuscita Ma che stavano a casa Cazzo dite Siamo ritornati a casa Signor Volde Siamo andati alla ricerca del bioma Partendo da casa Al bioma del deserto E sta pionendo ancora Siamo andati alla ricerca del bioma del deserto Niente Partendo da casa Siamo ritornati a casa Dopo 20 minuti E Bene No ma bevo Quindi ragazzi Se questi video vi piacciono Io vi invito a lasciare un bel pollicione in su Qui sotto al video E farmi sapere con un commentino qui sotto Se magari ne vorreste altri Detto questo Io vi invito ad andare a guardare Questo episodio Ovvero l'episodio scorso di Minecraft con amici Ovviamente sempre registrato Così all'improvviso E Più o meno saranno così i video Ma penso che oramai l'abbiate già capito Quello che succederà Lo sapremo soltanto Guardando i video Quindi vai a guardare questo video Fidati Guardalo che bello Cioè la copertina l'ho fatta io Non è figa Cioè non ti viene a vedere di cliccarlo eh Quindi cliccalo e fallo a vedere No Cioè la copertina l'ho fatta io Cioè la copertina l'ho fatta io Cioè la copertina l'ho fatta io